Una bomba a carta è stata fatta esplodere ieri attorno a mezzanotte di fronte ad un centro di preghiera islamico del quartiere Arcella di Padova in via Jacopo da Montagnana. È stata poi sfondata a calci una porta che dà accesso a cinque appartamenti privati abitati da cittadini stranieri. A terra tracce di un fumogeno acceso probabilmente per occultare eventuali telecamere presenti. A dare l'allarme sono stati molti residenti della zona svegliati dall'esplosione. Lei vive qui, cosa le hanno riferito? È preoccupata di quanto è accaduto? Sì, ma penso che adesso proprio a tempi non solo di questo condominio è un problema, ma con tutto il terrorismo intorno a noi, tempi proprio non è calmi. Perciò possiamo aspettare ogni minuto, non sai da quale parte. A parlare anche Shah Selim, presidente della comunità bengalese di Padova. In risora verso le mezzanotte e mezzo è successa una cosa che è la costura che potete venire qua a verso le luna. Poi è venuto qua e ha visto che è una pezzettina qua, la carta della bombardata, un tipo così. Non lo so precisamente, poi la porta era qua. Hanno forse battuto da piedi oppure voleva entrare qua visto che la cancello oppure qualcuno contro il centro culturale o non so che contro da quegli residenti che vivono qui, perché saranno cinque residenti che vivono qui. Poi parte della comunità nostra sarà tre abitanti che vivono qui. La parte può essere la contro di loro oppure la contro della centro culturale può essere. Non sappiamo esattamente quale motivo. I residenti qui sono rimasti all'interno delle loro abitazioni con tanto timore per quanto accaduto. Loro hanno diventato paura quando ho sentito quel rumore. Una volta che ho chiesto, subito quando ho entrato qui, subito ho chiesto al nostro con i nazionali. Loro ha detto che ho fatto un rumore forte e basta, non ne ho sentito più. Dopo non è uscito l'ora, è diventato paura. Pensate siano degli atti intimidatori verso la vostra comunità, verso la moschea? No, verso la centro culturale no, perché non pensiamo così che è contro da noi qualcuno. Anche noi non pensiamo così, noi siamo contro da altri.